È ufficiale, il premier uscente in cerca di consenso abbandona le vesti di tecnico superparte se indossa quelle di candidato alle prossime elezioni politiche. Ovvero, anche Monti tenta gli italiani toccandoli su un nervo sempre scoperto, le tasse. E i crismi di una campagna elettorale dove si mena forte ci sono tutti. Il Pungibol per oggi lo fa lui, il serafico professore che risponde al cellulare durante la messa dell'Epifania nella Basilica di San Pietro. E quella foto la dice più lunga di ogni altra parola. Perché il tempo stringe, le liste si devono fare. A questo proposito, l'ultima deadline prevede che il centro presenti i suoi candidati entro mercoledì. Di parole ne ha dette molte Mario Monti, da novello utente di Twitter, da guru del terzo polo ai microfoni di Sky TG24. È lì che si lascia dietro il cliché della promessa elettorale, che è sempre quella da che mondo è un mondo? Le tasse. L'unico politico ad aver osato dire che pagarle è bellissimo è il fuppado a schioppa. Berlusconi ci ha vinto le elezioni nel 2008. Dall'in poi la storia è nota. Via Lici è piombata a Limo. E ora di nuovo promesse. Queste. L'Imu va modificata, va ristrutturata. Il suo gettito va destinato maggiormente ai comuni. E occorre rivedere l'intera struttura fiscale e farlo su un arco di un po' di anni. E piovono giù critiche. La prima, quella che forse duole di più al senatore a vita, arriva di buon mattino dal suo ex pupillo. Quel Corrado Passera che a mezzo stampa boccia l'agenda Monti come una grande occasione persa, accusando il suo artefice di aver avuto poco polso con gli alleati centristi. Il premier avrebbe dovuto imporre la sua linea a Casini & Company, spingendo per una lista unica meno esposta a correntismi. È questo l'amaro pensiero del ministro per lo sviluppo economico. E siccome il presidente uscente se la prende sia col PD che con il PDL, gli risponde anche il non silenziato Stefano Fassina, che domanda l'Umi per l'inversione di tendenza sul fisco. Caro Monti, chiede il responsabile economico del PD, come mai prima i soldi per abbassare le tasse non c'erano? Tagliacorto Berlusconi che dice ci hai preso tutti in giro e si fa viva anche Tremonti con una provocazione che suona più o meno così. L'Imu è incostituzionale, quindi gli italiani possono chiedere un rimborsa al proprio comune. Parole durissime anche da Nechi Vendola che ha presentato la squadra di Sela alle prossime elezioni. Monti non riesce a vedere il dolore che ha provocato al paese. È il guru di un'elite, dice il governatore della Puglia, che vede come il fumo negli occhi un possibile ticket post-voto Monti Berzani, almeno quanto il professore vede lui come un ostacolo per quella stessa collaborazione.